Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Leone Games in compagnia di mia sorella e oggi si emana una mappa dei dinosauri dove noi dobbiamo diventare da lui fino a fino a lui che è molto brutto si sa vero no ma che è successo? mia tranquilla non ti vanno niente mi sto arrivando da te eccomi non ti vedo però mia però io non ti vedo no mia non ti vedo sono rosa ma mia ma sei un'altra città devo fare sempre 7 set d'amore ma non ti fanno neanche 3 set ah ecco no ero perché ero dall'altra parte vediamo se è tutto ma ho mangiato appena la persona e tu vieni qua no mia tranquilla non ti vanno niente allora mia sta ferma io non ti vedo io vai della zona della città sì 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 mi troppo oh ma sto mangiando case è carino il mio buco mi sta per diventare un altro dinosauro sì guarda qua la mamma mi aspetta mi aspetta ora tu diventerai questo dinosauro mi aspetta ora tu diventerai questo dinosauro feresti un velocirai e un filo uccidata adesso devo stare se io mi aspetta bakla ma won't Oh no, io ve l'ho da tutta l'ora, però non c'è, mia, allora niente, vengo in palazzo alto con verde, verde e, n, e, e bianco, io lo so di verde. Ma, non ha marciato! Non devi andare da là, niente, vengo in palazzo alto. Allora, mio, troverò con la casa. Allora, mi ha tolto un po' di vento. Allora, aspetta di mio! Aspetta, mio! Io mi ho trovato un altro, un'altra cosa che ci vuole andare qua. Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ti mangio! Ti mangio! Ti mangio! Allora, non ero? Gnam! Gnam! Almeno salgo di livello! Mia, sto arrivando. Tu non vieni di livello. Non mi faccio Allora Mi ha avuto Ecco il mio Allora Mi ha avuto E' quello prima di me Allora Mi ha avuto Allora L' voi Un XVIII Un XVIII Allora Allora Quina color Perfecto Quina color Axess Allora Quina color Wow, il tuo colore! Ah, l'avevo messo! Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo!